Sono passati anni dalla prima segnalazione di videoandia.com che per la prima volta sul web, sin dal 2014, documentava pubblicamente la presenza dei resti di un'antica cisterna sotterranea ubicata nella pineta di Castel del Monte, a poche centinaia di metri dal maniero federiciano Successivamente, un secondo filmato, diffuso sempre dallo stesso sito web, documentò il cambiamento del manufatto nel corso degli anni Correva l'anno 2016 A distanza di ulteriori anni, nel mese di novembre del 2023, le telecamere di videoandria.com sono tornate nello stesso punto per rivelare cosa è cambiato La cisterna risulta visibilmente danneggiata e umiliata dalla presenza di rifiuti, per lo più in plastica A distanza di anni, oltre al nostro sito web, nessun altro si è preoccupato di appellarsi alle istituzioni locali affinché si potesse fare chiarezza sulle origini di questo manufatto Secondo alcuni osservatori, potrebbe essere all'incirca coevo al castello medievale di Federico II Secondo altri, invece, si tratterebbe di una cisterna costruita in tempi più recenti